Buonasera, buonasera a voi. Io giusto un paio di sere fa ho avuto modo di fare un video su un intervento assolutamente totalmente fuori luogo per usare un eufemismo da parte del giornalista Parenzo di La Sette. In questo caso non era sulla Sette ma nella trasmissione radiofonica che lui conduce insieme a a Cruciani. Ecco è stato estremamente offensivo, pesante, ha dato praticamente del coglione ad un ospite che era stato invitato in studio per dire la sua a riguardo della morte di Papa Ratzinger. Ora vedete io ho sottolineato il fatto che capita spesso purtroppo senza voler fare utonermo un fascio che chi ha subito cose terribili nella vita e sicuramente gli ebrei sono stati delle vittime del secolo scorso, del razzismo, dell'antisemitismo, sono stati portati in campi di concentramento totalmente disumani. Insomma ne hanno subite di ogni. Poi però sembra incredibile come questi personaggi poi hanno dei comportamenti che vanno completamente al di là di quello che potrebbe essere il buonsenso e anche il fatto di dire che nella storia avendo subito cose di questa gravità poi loro invece al contrario hanno comportamenti molto corretti da questo punto di vista. Non è così, spesso non è così e devo onestamente dire anche per carità ci vado giù molto delicato che anche la signora, la senatrice Segre, ogni tanto voglio dire mi lascia qualche dubbio nei suoi interventi. Adesso è stata la fautrice di questo nuovo codice per quanto riguarda il razzismo, l'antisemitismo, l'odio, tutto assolutamente corretto e per carità e chi è che non vorrebbe un codice da questo punto di vista anche per quanto riguarda ad esempio l'informazione. Peccato che poi quando si macchiano di questi crimini, perché sono dei crimini in fondo, i suoi amici come appunto Parenzo ma anche tanti altri della televisione, la stessa Mirta Merlino, vi ricordate il caso ormai per carità andato nel dimenticatoio dove dei lavoratori, molti lavoratori di La Sette hanno sottoscritto un documento perché lei l'insulta, perché usava metodi duri nei loro confronti lanciando addirittura oggetti addosso ai dipendenti e così via. Ecco stavo dicendo Liliana Segre quando poi si tratta dei suoi amici chissà perché tace e la stessa cosa lo fa nei confronti di Gad Lerner. Cioè capite è questo che è totalmente inaccettabile e io ad esempio avrei voluto sentire una parola da parte di Liliana Segre a riguardo delle pesantissime discriminazioni che hanno subito in questo paese quelli che hanno deciso legittimamente come prevede la Costituzione di non vaccinarsi. Vedete sono queste le cose che veramente mi ammareggiano tantissimo. Questi personaggi da tutti osannati, guai per carità a criticarli, a toccarli perché poi gli ebrei non si possono toccare perché qualsiasi critica che tu fai devi stare molto attento perché altrimenti potrebbero darti del razzista, potrebbero accusarti così via. Quando invece voglio dire io semplicemente guardo i comportamenti e di conseguenza a me non me ne importa nulla la religione, il colore della pelle eccetera, io dico il mio parere su quel determinato comportamento e quindi voglio dire credo che ci sia poco da dire su questo. Ecco in conclusione è davvero grave ripeto che tra l'altro poi una senatrice perché lei è senatrice a vita intervenga così a convenienza si può dire. Questo non è accettabile, non è neanche accettabile da una signora di 90 anni che ha la storia, che ha Liliana Segre per la qual storia ci vuole tutto il rispetto. Però bisogna anche avere il coraggio di dire che insomma per quanto riguarda i suoi certi comportamenti e certe posizioni ecco non mi convince, non mi convince per nulla, non mi convincono soprattutto i suoi silenzi. Con questo vi lascio, vi auguro un buon sabato sera e ci sentiamo domani.